Acesso al lavoro degli Under 35, importante iniziativa annunciata dalla Regione. Sanità, l'esigenza del territorio e della popolazione, la Wilkie e del proprio coinvolgimento nelle decisioni. Verso Marte con Alenia Space, importante contributo dello stabilimento dell'Aquila. Vertice Regione Ryanair, sono emerse notizie confortanti. Un cordiale saluto dagli studi di Antenna 2. Dunque, favorire l'accesso al mondo del lavoro degli Under 35 non iscritti al programma Garanzia Giovani, con particolare attenzione a coloro che vivono nei comuni delle aree interne, in quelli ricadenti nelle cosiddette aree di crisi o in quei territori interessati dagli adiuti a finalità regionale. È lo scopo principale dell'iniziativa 30+, lanciata dalla Regione Bruzzo, che prevede due linee di intervento. Realizzazione di esperienze di tirocinio formativo extracurriculare di sei mesi. Incentivazioni all'assunzione con contratto di lavoro a tempo indeterminato, cumulabili con analoghe iniziative nazionali. Abbiamo voluto dare un segnale diverso rispetto al passato, sottolinea l'assessore al lavoro Andrea Gerosolimo, puntando su un numero minore di interventi di tirocinio, che avessero però una più alta probabilità di trasformarsi in forme stabili di lavoro. Allo stesso tempo, abbiamo voluto dare un segnale tangibile di vicinanza ai giovani e alle aziende che operano all'interno dei territori della nostra regione, che sono più in difficoltà. I destinatari devono avere età compresa tra i 18 e i 35 anni non compiuti, essere diplomati o laureati, residenti in Abruzzo e disoccupati da almeno sei mesi. Priorità sarà riservata ai giovani tra 30 e 35 anni non compiuti e alle donne. Per loro, continua Gerosolimo, è previsto un incentivo all'assunzione più marcato, in quanto sono le categorie che oggi in Abruzzo incontrano maggiori difficoltà nel trovare occupazione. Le associazioni WWF e Salviamo l'Orso, Pronatura, Lipu, Mountain Wildness, Italia Nostra, Legambiente, dalla parte dell'Orso, terranno domani giovedì 17 alle ore 11 presso la libreria Primo Moroni, via Quarto del 1029 a Pescara, una conferenza stampa congiunta sul nuovo tentativo di riperimetrazione al ribasso del Parco regionale Sirente, che interessato può partecipare liberamente. Produttori abruzzesi, protagonisti di un percorso di marketing territoriale, che mette in primo piano la bontà dei formaggi ottenuti dagli allevamenti del Parco nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga. Ci sarà una folta delegazione di pastori, aquilani e teramani, soci di Coldiretti, domani mattina alle ore 11 nel polo agroalimentare di Amatrice, in occasione del convegno L'Ammatriciano-Pecorino dei Monti della Laga, promosso dal Consorzio L'Ammatriciano, su iniziativa di produttori soci di Coldiretti, L'Aquila e Teramo, per esaltare le peculiarità del territorio montano abruzzese e proporre la qualità dei prodotti della zootecnica da latte. Un progetto di valorizzazione di una tipicità che vuole diventare fiore all'occhiello dell'economia montana nelle regioni Abruzzo, Lazio e Marche, coinvolgendo di esempi di maggiore spessore imprenditoriale e commerciale a livello zootecnico. Per Coldiretti saranno presenti Rinaldo D'Alessio, nelle veste di Presidente del Consorzio L'Ammatriciano, ed Emanuele Ripani, responsabile terramana di Coldiretti Donne Impresa, oltre al direttore di Coldiretti L'Aquila e Teramo, Massimiliano Volpone, e responsabile fondi strutturali di Coldiretti Abruzzo, Fabio Di Pietro, che illustrerà le opportunità di valorizzazione legate al nuovo piano di sviluppo rurale. Riscrivere la geografia della sanità abruzzese con un confronto ai più alti livelli con la Regione, mettendo a disposizione il patrimonio di strategia di esperienza del Sindacato nell'imminenza dell'attuazione del decreto Lorenzen. I vertici regionali della UEL, attraverso l'organizzazione di un convegno dibattito fissato a Pescara, venerdì 18 marzo, presso la Sala Figlia di Iorio, sposta verso l'alto lasticella del dibattito sul riordino della rete sanitaria abruzzese. La UEL, la sigla più rappresentativa in Abruzzo, è la sanità, cerca di costruire un ponte con l'assessorato regionale, al fine di conciliare al meglio i rigidi criteri della legge Lorenzen, con le rinunciabili esigenze sanitarie del territorio e della popolazione della Regione Abruzzo. Nell'incontro di venerdì prossimo, come ha detto a Pescara, alla presenza tra gli altri dell'assessore regionale della sanità Silvio Paolucci, il direttore dell'Agenzia Sanitaria regionale Alfonso Mascitelli, il segretario regionale della UEL Giuseppe De Angelis, affiancato da altri importanti esponenti del sindacato, affronterà gli aspetti cruciali del decreto destinato a cambiare pelle alla sanità della Regione. Non sarà fatto un incontro accademico, dichiara De Angelis, perché con questo summit dobbiamo sciogliere i nodi cruciali sulla riorganizzazione della rete ospedaliera dei servizi sul territorio e su altre questioni altrettanto importanti, come l'applicazione della legge dell'Unione Europea sui riposi obbligatori del personale che, peraltro, riguarda anche gli specializzanti. La UEL si specifica intende esercitare più che mai il ruolo di severa sentinella nella salvaguardia dei diritti delle aree più decentrate e disagiate, lanciando messaggi alla nuova governance della ASL, Avezzano, Sulmona e L'Aquila. Nel formulare i migliori auguri di buon lavoro al nuovo manager, Rinaldo Tordera, dichiara il segretario regionale Giuseppe De Angelis, diciamo con molta chiarezza che valuteremo sul campo e sulla base dei singoli provvedimenti la competenza del nuovo manager. Se sarà necessario, come abbiamo sempre fatto, nell'interesse dei cittadini e dei lavoratori, non ci sottrarremo a confronti anche duri, come spesso è accaduto con il precedente direttore generale. Dopo due mesi di vuoto decisionale nella ASL 1, nonostante il grande lavoro svolto dal direttore generale facente funzioni, occorre ora riguadagnare rapidamente il tempo perduto, rimettere in moto la macchina, affrontare al più presto i tanti complessi problemi, tra cui quello dei tanti lavoratori precari. Riteniamo che come garanzia di ottima navigazione nelle acque quasi sempre agitate della sanità della ASL 1, sia assolutamente necessario dare continuità al lavoro svolto, con grande professionalità e competenza da parte della direzione sanitaria aziendale e del suo staff, mentre sul piano amministrativo vi sono diversi aspetti da rivedere. Il Movimento Libertà e Partecipazione è organizzato presso il Comune di Avezzano un incontro sui seguenti temi, pensioni di reversibilità, banche, referendum. Le relazioni hanno evidenziato come, su temi più così importanti, l'informazione è carente o distorta, perciò è necessario partecipare, conoscere e opporsi alle soluzioni offerte dal Governo a riguardo che penalizzano famiglie e imprese. Su referendum Trivelle, il 17 aprile si è deciso di formare il Comitato di Avezzano per fornire informazioni utili a tutti i cittadini che si recreano alle urne nella data stabilita. Il prossimo appuntamento è il 21 marzo sul tema Acqua pubblica e Costituzione Comitati Cittadini per il referendum sociale. Niente incentivazioni alle assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato, comunabili con analoghe iniziative nazionali per le imprese della Marsic e della Piana del Cavaliere. Questo è quanto premette Vincenzo Mini, capogruppo consigliare di Oricola Camp, intervenendo dal distretto industriale Piana del Cavaliere. Oggi è stato reso noto dall'assessore al lavoro Andrea Gerosolimo il progetto 30 più meritevole. Qui sono elencati i comuni abruzzese cui prioritariamente destinare dai 6.000 a 9.000 euro per assunzione di giovani e altri fondi per tirocini finalizzati all'assunzione. I comuni agevolati sono quelli delle aree di crisi, zone 107.3C e aree interne. I comuni della Marsic e della Piana del Cavaliere non ci sono. Confidavamo che il passo a fine 2015 di indicare la Marsic e Piana del Cavaliere nelle aree di crisi nel documento programmatorio della regione Abruzzo servisse a qualcosa. Purtroppo, ricorda Mini, non è stato tramutato in atti di giunta. A questo punto conclude quante altre agevolazioni regionali e nazionali perderemo in attesa del riconoscimento di area interna 107.3C e aree di crisi come peraltro richiesto dal 2014 non soltanto dal sottoscritto ma anche le diverse risoluzioni del Consiglio regionale. Ed ora una notizia che ingorgodisce i ricercatori abruzzesi come noto il satellite europeo ExoMars realizzato da Tails, Salenia Space, John Venture, tra Tails il 67%, Finmeccanica il 33% è stato lanciato con successo alla volta del pianeta Marte il 14 marzo scorso dalla base di Bakinur in Kazakistan. È iniziata così la prima tappa dell'avventura marziana, un viaggio straordinario alla scoperta di Marte con l'obiettivo di studiarne l'atmosfera e di mostrare la fattibilità di diverse tecnologie fondamentali e critiche per l'ingresso in atmosfera discese d'atterraggio sul pianeta. Seguirà nel 2018 quella seconda missione che comprenderà un rover europeo autonomo capace di prelevare campione di terreno ad una profondità di due metri e di analizzarne le proprie chimiche, fisiche e biologiche. Tails, Salenia Space Italia prime contractor del programma ExoMars è responsabile della progettazione di entrambe le missioni 2016 e 2018 Il veicolo che ha iniziato il viaggio verso il pianeta rosso è composto da un modulo orbitante integrato presso lo stabilimento Tails, Salenia Space di Cannes e da un modulo di discesa realizzato nello stabilimento Tails, Salenia Space di Torino. Lo stabilimento Tails, Salenia Space dell'Aquila ha portato quindi un contributo determinante alla missione sviluppando circuito digitali integrati costruendo l'antenna e in generale partecipando alla progettazione e all'assemblaggio di alcune unità utilizzate nella sonda. L'antenna ideata e progettata presso il sito di Roma è stata la prima ad essere costruita ed integrata nel reparto materiali compositi del nuovo stabilimento dell'Aquila. Questa importante unità destinata ad essere un elemento basilare nel ponte radio tra la sonda avviata sul pianeta Rosso e le stazioni risciaventi a terra è stata realizzata mediante una tecnologia costruttiva basata sull'uso di materiali e processi adatti all'uso spaziale ed in condizioni estreme quali quelle che il satellite incontrerà nei mesi di viaggio interplanetario nell'orbita attorno a Marte. Sono stati sviluppati all'Aquila anche due dei microchip utilizzati sulla sonda. Lo stabilimento Aquilano ha quindi fornito un apporto significativo a questa storica missione il cui arrivo sul pianeta Rosso è previsto per il 16 ottobre. Formaggi e salumi aquilani ma anche miele zafferano vino e olio ogni genere di prodotto tipico rigorosamente abruzzese ma soprattutto aquilano per festeggiare il primo compleanno del mercato di Campania Amica di Via Panella all'Aquila situato nel piazzale di Frontal Carrefour un anniversario che non poteva passare inosservato tra i produttori di col diretti che spongono e vendono le proprie eccellenze da 365 giorni ogni venerdì dalle ore 8.30 alle 14 suscitando il grande entusiasmo di consumatori di tutte le età e di ogni classe sociale compresa la direzione del supermercato della catena francese così oltre ad una simbolica candelina che verrà spenta alle ore 11 in punto dai produttori dai vertici di col diretti e Campania Amica dai dirigenti di Carrefour non poteva mancare una serie di iniziative per coinvolgere i nuovi consumatori quindi oltre alla degustazione e all'assaggio delle diverse eccellenze in vendita una allettante iniziativa commerciale con uno sconto del 10% su tutti i prodotti oltre 25 autoriparatori hanno partecipato al corso organizzato presso la CNA di Avezzano sul tema tecniche di diagnosi abbiamo chiesto la CNA hanno dichiarato alcuni partecipanti al termine delle lezioni di organizzare altri percorsi formativi come questo che si è appena concluso la lezione di oggi hanno aggiunto gli allievi è stata particolarmente interessante perché ci ha fornito informazioni e nozioni tecniche all'avanguardia che potremo applicare nel nostro quotidiano lavoro siamo grati alla CNA di Avezzano concludono che ci ha dato questa opportunità mi impegno formalmente dichiarato il presidente dell'associazione Francesco d'amore che ha consegnato gli attestati a tutti i partecipanti a pianificare con l'unione degli autoliparatori regionali il prosieguo delle ulteriori attività formative richieste per questa categoria una notizia che sicuramente interessa anche moltissimi cittadini della nostra provincia riguarda l'incontro che si è svolto in regione per cercare di far desistere dalla compagnia aerea Ryanair dall'abbandonare la sede operativa di Pescara dal vertice sono emersa notizie confortanti e a riguardo un nostro servizio come è preannunciato si è svolto a Pescara l'incontro tra la delegazione delle istituzioni abruzzesi guidata dal presidente Luciano D'Alfonso ed il responsabile commerciale della compagnia aerea Ryanair David O'Brain per affrontare il problema aperto dalla chiusura della base dell'aeroporto d'Abruzzo e dal ridimensionamento delle rotte operate dalla principale compagnia Lyukost europea a questo proposito D'Alfonso ha confermato l'appuntamento del prossimo 7 aprile con il ministro del Rio con Ryanair per cercare gli spazi di mediazione tra i temi dell'incontro ha confermato D'Alfonso ai giornalisti quello delle politiche comunitarie sugli scaldi regionali ed il coinvolgimento dei privati abruzzesi nei progetti di marketing della compagnia il ministro del Rio ha sottolineato D'Alfonso ha deciso di avviare una riflessione su questa tematica alla luce anche dei nuovi orientamenti emersi in sede europea secondo cui la presenza dei vettori Lyukost sul mercato rappresenta una risorsa allo stesso modo degli aeroporti minori per i quali il consiglio dei ministri è disponibile a trovare un diverso assetto normativo da calare anche nelle linee guida degli aiuti di Stato l'Abruzzo in questa trattativa con il governo nazionale sarà capofila in quanto si tratta di una questione che riguarda tutte le regioni italiane al termine dell'incontro O'Brain pur ribadendo la posizione di Ryanair ha sottolineato di aver apprezzato l'attività svolta dal presidente D'Alfonso e di affrontare con un clima di maggiore fiducia il prossimo incontro con il ministro del Rio O'Brain ha spiegato che Ryanair non solo è disponibile a non chiudere la base di Pescara ma potrebbe anche decidere di potenziare la sua presenza a patto ovviamente che si creino le giuste condizioni per poter proseguire l'attività a partire dall'eliminazione delle nuove addizionali comunali fino alla modifica delle linee guida delle misure di sostegno nelle compagnie aeree low cost al vertice tra gli altri ha partecipato anche il capogruppo regionale di Forza Italia Lorenzo Spiri che ha assicurato il suo sostegno alle azioni che si renderanno necessarie per sostenere la permanenza di Ryanair a Pescara ascoltiamo a riguardo il presidente D'Alfonso il 7 di aprile alle 9 il ministro dei trasporti del Rio ci riceve per affrontare il tema della tassazione sui passeggeri io sono molto soddisfatto della serietà dell'approfondimento del livello del confronto che abbiamo stabilito è centrale il colloquio con il ministro e naturalmente l'esito del colloquio io ho fiducia personalmente ho rappresentato anche le ragioni per cui ho fiducia ho apprezzato le parole del dottor O'Brien in ragione e in rappresentanza di Mr. Ryan sono convinto che ci sono tutte le condizioni affinché questo fidanzamento si trasformi in matrimonio come regione e come regioni assieme al dottor O'Brien e ai suoi collaboratori e colleghi spiegheremo al ministro e al ministero le ragioni per cui vale la pena rivedere riconsiderare e ripensare la decisione di stretta competenza del ministro se mi si chiede che cosa penso dell'incontro io ho fiducia però la decisione è del ministro ora passiamo alla pagina sportiva massiccia presenza dell'Usa Runners Avezzano alla 42esima edizione della Roma Ostia la mezza maratona più partecipata d'Italia sulla linea di partenza del Palau sono stati 35 di atleti del sudalizio avezzanese che si sono impegnati con l'obiettivo di raggiungere il lungomare di Ostia nel più breve tempo possibile una magnifica giornata di sport afferma il presidente Giovanni Pansini che ha registrato l'arrivo di tutti gli atleti all'altraguardo la nostra è stata la cinquantesima società tra le 1072 partecipanti da segnalare le prove di Italo Gian Caterina Mirko Fantozzi Alessandro Felli Gabriele Lisciani tra le donne ottime prestazioni per Rosalba Trucchio e Moira Franchi nell'occasione set atleti dell'Usa hanno esordito sulla distanza dei 21 chilometri la Roma Ostia di domenica scorsa ha consentito ad alcuni atleti di migliorare il proprio personal best sulla distanza ed ora il calcio con due servizi del campionato di eccellenza il primo riferito al pareggio interno della vicecapolista Paterno contro il San Salvo per 1-1 mentre l'altro alla sconfitta esterna del Celano per 2-1 a Martinsicuro vediamo il Paterno sembra aver definitivamente smarrito la verve e la lucidità di manovra della prima parte di campionato e anche contro il San Salvo è stato costretto a segnare il passo non ha giocato bene la ex capolista soprattutto nel corso del primo tempo durante il quale gli ospiti hanno tenuto costantemente in mano il pallino del gioco senza però capitalizzare le occasioni che i nerazzurri hanno concesso e alla fine l'uno a uno appare come il risultato più giusto anche se non accontenta nessuna delle due contendenti e più avanti capirete perché tre assenze importanti tra i marsicani Catalli Amore e Di Stefano e difesa per forza di cose rabberciata anche se il rientro di Gabriele sembra conferirle una buona soldità ma dove il Paterno Balbetta è a centro campo perché il pressing dei Bianco Celesti è sempre efficace giornata di una storta anche per Mario Di Girolamo insolitamente impreciso nei rilanci di piede e proprio su un rinvio sbilenco dell'estremo di casa per poco Marinelli non mette il sigillo a sbrogliare la matassa deve pensarci Gabriele che si rifugia in calcio d'angolo al quarto d'ora D'Aurelio riceve avanza e tira ma troppo fiaccamente e troppo da lontano Di Girolamo para senza problemi altri due minuti e Colitto in mezza girata dall'interno dell'area ci prova ancora non si tratta di nulla di importante ma è soltanto la conferma che il pallino del gioco resta costantemente in mano ospite al ventunesimo finalmente si sveglia il paterno ma sullo scontro in area fra Micica e Felice il direttore di gara fa segno che è tutto regolare poi si fa male Gabrielli e per il paterno si tratta di una pertida importante perché Iodice è costretto a ridisegnare la difesa retrocedendo Albertazzi in terza linea con Iaboni che va a fare il centrale in coppia con D'Amico trentaduesimo altro tentativo di Marinelli che calcia dalla linea di fondo e costringe Di Girolamo a rifugiarsi in calcio d'angolo Marsicani che continuano a sbagliare anche le giocate più semplici ma al trentacinquesimo l'occasione migliore capita proprio a loro è Paris a percorrere 40 metri di corsa e presentarsi da solo davanti a Cialdini ma l'attaccante conclude proprio addosso all'estremo bianco celeste e tutto sfuma e per concludere vi mostriamo l'ennesimo errore del paterno che in chiusura di tempo sta per regalare il vantaggio al San Salvo ma Marinelli mette altro sopra la traversa e passiamo a vedere la ripresa che si apre con un lancio lungo in area a beneficio di Marinelli Di Girolamo e D'Amico si scontrano tra loro e per poco il San Salvo non coglie il bersaglio il paterno si scuote e su azione di contropiede Miccichemette in azione Paris che impegna severamente Cialdini il tiro del numero 11 nero azzurro viene deviato in calcio d'angolo diciassettesimo calcio di punizione per il bianco celesti e colpo di testa finale dell'avanzato Felice che termina alto di una spanna sopra la trasversale altra punizione al ventinovesimo batte Triglione per Marinelli che si coordina bene ma angola troppo l'inzuccata e anche questa occasione viene sprecata al trentunesimo il paterno potrebbe passare in vantaggio Crass in buca per Miccichè che entra in area a tutta velocità e lì trova Ramundo che lo sgambetta nettamente è calcio di rigore ineccepibile e per Ramundo c'è anche l'ulteriore punizione del cartellino rosso dopo le solite manfrine sul dischetto va Miccichè che batte troppo centralmente e Cialdini sventa in due tempi delusione tra i tifosi di fede locale ma al trentacinquesimo il paterno il gol lo fa per davvero l'azione è un po' il marchio di fabbrica dei marsicani che scattano in contropiede alla loro maniera in area Carosone controlla e appoggia per il meglio piazzato Miccichè il cui tiro non lascia scampo a Cialdini sugli spalti i tifosi festeggiano perché alla fine mancano meno di 10 minuti e il San Salvo gioca con un uomo in meno ma al 42esimo arriva la doccia fredda il San Salvo tenta l'ultimo assalto e Marinelli mette in campo tutta la propria abilità e la propria astuzia cercando il fallo che il paterno contesta vivacemente ma senza ottenere nulla la posizione è particolarmente invitante e di luoco non sbaglia palonetto a scavalcare e di girolamo può solo guardare la beffa è bella e servita e al rientro negli spogliatoi la tensione si percepisce a naso un po' di tensione a fine partita perché il pareggio per 1 a 1 ha lasciato scontento sia il San Salvo che il paterno il paterno che nel primo tempo non ha giocato bene anzi tutt'altro che però nel secondo tempo ha avuto l'occasione per vincerla questa partita al di là del calcio di rigore poi io dici che cosa è successo ma hai detto bene il primo tempo non abbiamo fatto bene poi nel secondo tempo credo che poi il paterno ha preso in mano la partita e sicuramente meritava meritava la vittoria poi sull'1 a 0 a 3 minuti alla fine non so non ricordo l'albito ha dato quella punizione al limite dell'aria secondo me inesistente però purtroppo nelle ultime domeniche succede sempre questo hanno fatto gol sull'1 a 1 e poi la partita è finita così ma in quel caso è stato bravo Marinelli il centro avanti loro o è stato ingenuo d'amico non lo so se è stato ingenuo d'amico ma Marinelli si è appoggiato al nostro giocatore l'albito ci è cascato in pieno quindi ha fischiato l'amuzione però va bene così purtroppo dobbiamo accettare le decisioni dell'albito lui l'ha vista così e andiamo avanti senti ho parlato di un pizzico di nervosismo anche Paris quando è uscito Paris non ha giocato una buona partita ma non è l'unica perché ultimamente insomma Paris è sceso di condizione si è rivolto in tribuna contro qualcuno che evidentemente ha detto qualcosa nervosismo così un po' generale o qualcosa di circoscritto no no qualcosa di circoscritto sicuramente noi è chiaro che nelle ultime partite ci giochiamo tanto quindi un po' di nervosismo ci può pure stare però a finita là non c'è niente di niente di nervosismo noi dobbiamo stare tranquilli e continuare queste cinque partite e dare il massimo nelle ultime cinque partite e poi vediamo cosa succede ecco il secondo posto soprattutto è il distacco dalle alte dalla terza Paterno che cerca di non fare i playoff regionali c'è possibilità di riuscirci? ma sicuramente io non sono i risultati di oggi però fino a oggi stavamo a otto punti adesso non sono i risultati di oggi quindi ancora la possibilità c'è anche se è difficile però noi dobbiamo stare tranquilli e continuare a pensare a noi partita per partita e poi all'ultima partita tiriamo la linea e vediamo quello che abbiamo fatto è arrivato anche Rufini un Rufini soddisfatto o insoddisfatto questo pareggio ho detto in apertura che lascia scontenti un po' a tutti è così? io soddisfatto perché da uomo di calcio guardo la prestazione della squadra la prestazione è stata quasi perfetta per tutta la durata dell'incontro la squadra ha interpretato benissimo la gara ci ha messo determinazione grinta e in più tutte le cose provate in settimana sono state messe in atto purtroppo nel calcio la devi mettere dentro nel primo tempo abbiamo avuto 4-5 occasioni per poterlo fare nel secondo tempo è normale che giocavamo contro il Paterno quindi non con l'ultima arrivata è normale che potevano guadagnare un po' di campo però abbiamo tenuto benissimo fino all'episodio dell'espulsione del rigore ci è andata bene che hanno sbagliato il rigore sono stati bravi a fare gol però la squadra anche in 10 non ha mollato ci ha creduto fino alla fine ha raggiunto un pareggio che diciamo che a conti fatti si può dire giusto anche se sul compito delle occasioni abbiamo molto da recriminare il Paterno contesta il calcio di punizione che poi ha fruttato il pareggio alla San Salva beh se ci mettiamo a contestare tutte le discussioni dell'arbitro io contesto i due gol annullati in fuorigioco magari andiamo a rivedere siamo sempre lì e magari può avere ragione può avere torto però non c'è una muovia in campo quindi come magari sbagliamo noi come sbagliano i calciatori magari può sbagliare l'arbitro questo non vuol dire che abbiano ragione quindi è da rivedere non lo so ci può stare però sicuramente nel computo totale della prestazione sicuramente non abbiamo rubato niente anzi forse ci manca un qualcosino i playoff regionali si faranno o no secondo lei? noi lottiamo per farli domenica abbiamo un incontro importantissimo con la Vastese dove ce la metteremo tutta per batterli per rosicchiare qualche punto ancora e tenerci nella distanza giusta c'è Pineta e Angolana che oggi non hanno vinto a quanto ho saputo però stanno aggrappati insomma alla seconda quindi se riusciamo a mantenere il gap di sotto i 10 punti riusciamo a farli e abbiamo ottime chance di poter fare cose buone playoff perché la mia squadra sta bene è in palla e quindi può ancora dire la sua le prime il gruppetto delle prime ultimamente mostra qualche eccedimento Vastese e Paterno in primis è normale tutto questo? beh sì hanno tenuto dei ritmi altissimi verso tutto il campionato hanno fatto vittorie su vittorie è normale che qualcosa vai a perdere sia in termini di tensione che di motivazioni la fortuna la sfortuna del campionato è che quando magari fa un passo falso l'una lo fa anche l'altra e quindi comunque non si non si riesce a chiudere sto campionato inoltre c'è da mettere anche in conto che le squadre che stanno giù non mollano e vogliono far punti per la salvezza quindi ogni partita adesso diventa difficilissima sicuramente più dell'andata in piena lotta playoff vuole tornare al successo casalingo che manca da 40 giorni il martin sicuro di mister Di Fabio di fronte troverà un agguerritissimo celano di mister Morganti che dopo la vittoria di sette giorni fa contro il capistrello è tornato a sperare in una comunque difficile salvezza andiamo in cronaca e partiamo dal quarto minuto con Picciola che si accentra dalla sinistra lascia partire un bel destro Fanti accompagna sul fondo solo tre minuti più tardi ancora Picciola approfitta di una spizzata del suo compagno di reparto Pigliacelli e beffa questa volta Fanti che nulla può sul tiro che vale l'uno a zero per i padroni di casa primi minuti da dimenticare per il cerano Alessio Di Giorgio va sul fondo dall'altra parte Picciola rimette in mezzo bravissimo a salvare Castellani su Pigliacelli al quattordicesimo inserimento di Parinelli che mette al centro una palla interessante in ritardo Pigliacelli si scuote il celano e ci prova con il suo attaccante Grasse 95 Mercogliano che in due occasioni si rende pericoloso ma il gol del Pari arriva al trentunesimo da un tiro che sembrava innocuo scoccato da Laurato poi la deviazione di Cucco inganna Tronelli per il pareggio dei Celanesi Celano che si rende ancora pericoloso con Baruffa in due occasioni prima si ora il parola a destra di Tronelli poi sfrutta un rimpallo favorevole e spara alto finisce il primo tempo con un Celano che ha preso indubbiamente coraggio dopo la rete del Pari ma la ripresa inizia con il Martinsicuro che spinge al quarto Di Giorgio mette una palla interessantissima in mezzo salva il solito Castellani al decimo da uno dei tanti duelli Piunti Baruffa esce fuori il Celanese che serve a scatenare la palla del 2-1 tiro che finisce alto Martinsicuro si vuole prendere i tre punti fondamentali per la classifica Di Giorgio al ventesimo per Picciola non riesce a impattare verso la porta inuto chiave potrebbe essere il ventisettesimo quando il signor Attobelli di Pescara decreta un calcio di rigore per atterramento di Alessio Di Giorgio da parte di Simeoni che con il doppio giallo va anzitempo sotto la doccia batte coccia e bravissimo a respingere Fanti che tiene vive le speranze del Celano ma di insicuro però spinge ancora grazie anche alla superiorità numerica Di Giorgio ancora sui piedi di Fanti ma il gol è nell'aria arriva al trentaquattresimo a undici dal termine da azione di calcio d'angolo è il capitano Cucco a svettare più in alto di tutti a portare in vantaggio il Martinsicuro brivido sulla schiena di Tronelli dopo un calcio piazzato del solito laurato anche Coccia mette in mostra le sue doti balistiche il Martinsicuro potrebbe chiudere la gara con Loris Di Giorgio ancora bravo Fanti a ipnotizzare l'attaccante finisce così per il Celano una sconfitta che brucia per il Martinsicuro con sei under in campo tanti applausi Siamo con Luigi Morganti allenatore del Celano mister allora è arrivata una sconfitta su un campo difficile ma voi vi siete giocati la partita a testa alta non sono venuti i punti questo è un grande rammarico per la vostra classifica è normale nella condizione in cui siamo noi quando arrivano i punti c'è rammarico sapevamo che era una partita difficile non credo che il campo abbia dato giusto merito a quello che noi abbiamo espresso a parte gli ultimi 7-8 minuti in cui abbiamo concesso qualcosa per forza di cosa per cercare di recuperare il risultato penso di aver giocato alla pari con il Martinsicuro credo che il risultato di pareggio era più giusto però il calcio è fatto di episodi i servizi di sport terminano questa edizione del giornale prima dei saluti come sempre vi ricordiamo che questa edizione la potrete rivedere sul nostro sito internet che è antena2tv.it tra le altre cose è possibile rivedere anche i vecchi servizi che Antena 2 ha realizzato nel corso degli ultimi anni dunque grazie per averci seguito anche oggi e rivederci alla prossima edizione Grazie a tutti